Musica 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 che bella gente oggi via l'albo! oh bellissimo! come va? come va? come va? come va? come va? vedete tutti questo bantino ridente? e anche per pulire un pochino questi due insieme ok mi chiedete dormire la mattina? no! 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 vabbè, sto f*** e vi consiglio di mantenere una condotta più venti con il giocatore per il piccolo unica di tutti i partecipanti avete filmato e avete sottoscritto questo modulo chi non l'ha fatto? deve venire qui in controllo a filmarlo parliamo un attimo del percorso del percorso sono quasi 80 km è importante che tutti aggossino sono quasi 60 km quindi andiamo qui al rifornimento dopo circa dici 3 km dobbiamo fare già rifornimento non so cosa queste cazzo roba di moda proprio consumano eh mai in successo dopo dei chilometri di polimento ecco ecco ah sì ah il pezzo il pezzo delle felfi ecco via il pezzolino poco tutto non sape il tremore ma la moto nelle ultime vibrazioni che non si sente più con me ma che cavoli non sape il tremore delle mani ma le vibrazioni sono eccezionali bellissimo Allora qui è un altro punto dove ci siamo fermati perché siamo un pochino finacissimo, in fondo potete vedere quella macchia e il mare Andrea dice che è il vecchio, ha finito di fare un svorone, adesso si darà all'istica o si fornerà l'istica o tristica, vedete la Yamaha Ora sto inquadrando i nostri monti, Monte Reventino e Monte Mancuto, noi siamo proprio di pronta ai nostri percorsi, che viene all'aria proprio in una trucchetta Ehi 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 Carissimi Il viaggio è il boschetto? No Beh, adesso lo faccio Ecco il primo intoppo E' proprio Carmelo che tenta di tirare fuori il suo moto da dentro le tive di cassa Ma sono andata a parte Entra Benuti Signor Razzio, voi lei cosa ne pensi fino a adesso? Volei che stamattina aveva la febbre a 37, no? Sì, ecco il fiume che abbiamo appena finito di guardare, bellissima pietraia con passaggini veramente tecnici dove c'è bisogno di forza nelle braccia. Vedi, devi andare in quel canale? Sì. Si è coricato un po' di grande Davide? C'è una pietra? No! Cazzo! Ok, l'albero! Sì, come tre vinto! Sì, come tre vinto! Ecco qua che è il corone Sentiamo uno corone, uno corone Andrea che si lava i piedi E' una nuova che c'è, una nuova che c'è la re Ecco un crostista, un crostista Di qua è Andrea mi dà più immagini? Ecco leo, leo vai, leo! Guarda il grande Leo che non ha paura, un bambino, no, il grande Gaetano. Il grande Leo che passa, il grande Andrea Gaetano, in tutti i tempi, fiore, fiore, vai, piano, 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 col corone qui non serve, qui non serve col corone. Giuseppe che figlia, vai Giuseppe che figlia. No, 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 no. Niente, figlia la ruota dietro, figlia, la ruota dietro, figlia e non va. Ok l'albero, ok l'albero, ok l'albero, ok. Ho sverniciato a Carmelo, per quel mitico Volpe. Si arriva il Volpe, no, l'Orlando, il Volpe è già qui. Significa, ho ben segnato, ho ben segnato, scusate. No, 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 no. Stiamo giù dal оставio testo. Stiamo giù dal tetto. Stiamo giù dal vento. Ecco il piccolino, il piccolino, che si è rospita, abbiamo staventato il figliere, hai mamma quanti figliere, piccolini, una famiglia di figliere, la famiglia è bellissima.